Ciao a tutti, oggi volevo parlare di questo prodotto ELOS Terra 1, fettilizzante periodico da fondo. È un fettilizzante a lento rilascio perché grazie all'innovativo processo utilizzato per inglobare i nutrienti, ELOS Terra 1 garantisce un rilascio lento e costante dei minerali per un periodo di 4 e 6 mesi, impossibile con gli altri fettilizzanti. Possiamo dire che questa tipologia di fettilizzante non altera l'acqua dell'acquario, anzi va a ricreare delle condizioni che si avvicinano molto più a quelle che possiamo riscontrare a livello naturale, quindi nei fiumi e nei laghi tropicali. Questo come potete vedere è il foglietto di istruzioni. Queste sono invece le capsule. La capsula è formulata per rintregare in modo pratico e veloce gli elementi del substrato del fondo dell'acquario. Suggerisco di spingere la capsula il più a fondo possibile all'interno del substrato. Grazie per aver visualizzato questo video, vi invito a iscrivervi al canale, a commentare sotto i video e a lasciare un bellissimo mi piace. Ci vediamo alla prossima, ciao! Ciao! Grazie a tutti.